Nome? Pierpaola. Cognome? Nespoli. Età? Diciannove. Segno zodiacale? Gemelli. Professione? Studentessa universitaria. Colore preferito? Dipende dai giorni. Film preferito? Ce ne sono troppi. Che musica ascolti? Un po' di tutto ma più che altro commerciale. Pratichi sport? Sì. Quale? Danza. Hobby? Ascoltare musica e trovare canzoni nuove. Cambieresti qualcosa di te caratterialmente? Forse essere un po' più ottimista. Fisicamente? Sì, magari un po' più alta e con le tette. Preferisci vacanze lunghe e rilassanti o brevi ma divertenti? Brevi ma divertenti. Mare e montagna? Mare. Natura o città? Natura. Perché? Natura. Come ti vedi fra cinque anni? Non ne ho idea. Dieci? Ancora peggio. Dove vorresti vivere? Non vivrei da nessun'altra parte se non in California.